Assemblea dell'Ati, oggi ad Agrigento, sono diverse le questioni aperte che i sindaci della provincia sono chiamati ad affrontare rispetto al servizio idrico e alla gestione aica, non solo le problematiche legate ai servizi nell'erogazione. La questione della mancata manutenzione delle reti con conseguenti ingenti perdite di acqua in una stagione fortemente critica per la siccità è diventata la priorità. Ieri il sindaco di Agrigento ha annunciato di avere concordato con la protezione civile regionale e gli interventi di manutenzione straordinaria, quelli di riparazione delle perdite idriche che aica non è in grado di garantire puntualmente. Anche Sciacca intende valutare queste ipotesi pur avendo già previsto con apposita variazione al bilancio l'istituzione di un capitolo di spesa da destinare agli interventi sulle perdite più rilevanti. Questa è una delle cose che abbiamo già discusso noi sia in conferenza capigruppo che anche in consiglio comunale sull'opportunità per Sciacca di avere un sostegno da parte della protezione civile per la manutenzione delle reti, visto che a Sciacca non abbiamo necessità di ricercare nuovi pozzi perché li abbiamo e quindi questa è una richiesta che si è concretizzata intanto con l'atto che abbiamo fatto tutti insieme in consiglio comunale ma che sarà oggetto chiaramente di incontri anche con la protezione civile. Adesso non so bene la situazione di Agrigento perché non l'ho seguita ma in ogni caso oggi abbiamo un'assemblea a lati e quindi ci vedremo anche col sindaco di Agrigento per capire effettivamente come si stanno muovendo anche loro per fare chiaramente un movimento anche comune. È chiaro che quello che oggi intanto già abbiamo fatto è questa variazione di bilancio che ci consentirebbe quindi di intervenire in sostituzione al gestore sulle perdite più importanti che a mio avviso sono quelle che non consentono sostanzialmente una regolare erogazione in tantissime zone perché ci sono utenze dove sostanzialmente i turni vengono pure rispettati però poi non arriva l'acqua perché c'è la perdita idrica quindi queste saranno le principali priorità. La richiesta del comune di Sciacca che è già stata comunque vagliata dal comune sicuramente ma anche dalla direzione generale di AICA è al tavolo del CDA e quindi insomma si attende che venga esitato e poi si firmerà la convenzione e si può partire. Si attende dunque la risposta di AICA in merito all'intervento sostitutivo prospettato dal comune di Sciacca ma la questione prioritaria rimane anche quella del rifacimento di una rete idrica con la Brodo con il famoso progetto pronto da anni e per il cui finanziamento si è aperto un vero e proprio giallo. Circa tre settimane fa ho incontrato l'assessore Di Mauro che è l'assessore competente in materia e ci ha detto insomma che uscirà una misura di finanziamento proprio per il rifaricimento delle reti quindi l'ATI ha già in dotazione il progetto esecutivo per la rete del comune di Sciacca quindi noi siamo pronti, abbiamo un progetto cantierabile e quindi è anche aggiornato con i prezzi odierni e quindi siamo pronti appena esce questa misura per partecipare quindi attendiamo soltanto che esca questa misura che è stata già annunciata da Di Mauro. All'Assemblea dell'ATI il sindaco di Sciacca intende tornare a porre la questione della risorsa idrica legata ai nuovi pozzi di grattavoli che deve servire alle esigenze della città. Il giorno in cui si è insediato il direttivo dell'ATI quindi con il nuovo presidente Giovanni Cirillo ho fatto mettere a verbale che questa è la nostra richiesta chiaramente sarà disciplinata questa cosa anche oggi all'Assemblea dell'ATI ma con più concretezza in incontri privati che ci saranno tra l'ATI e l'AICA. È chiaro che questa è la nostra richiesta ma l'ho detto in tante occasioni non perché i pozzi sono di Sciacca perché purtroppo la legge non dice che i pozzi sono di Sciacca ma si trovano a Sciacca e fanno parte dell'intero ambito ma sono convinto che i tagli orizzontali che sono stati operati dopo le decurtazioni di Sicilia Acqua che hanno visto una riduzione del 25% su tutte le città costiere credo che siano quantomeno non equi perché ritengo che la nostra situazione non può essere uguale a quella delle altre città costiere perché Sciacca ha un tipo di turismo che credo che neanche aggrigento abbia soprattutto nel mese di agosto quindi l'obiettivo è quello di ridefinire i rapporti tra le varie città perché se è vero che i pozzi sono dell'ambito e non sono delle città in cui si trovano è anche vero che ci sono situazioni e situazioni rispetto alle esigenze del territorio.